Qual è il messaggio per Anja ai giovani di oggi e alle nuove generazioni? Credo che oggi dobbiamo comprendere che la giustizia non è una categoria mentale, la giustizia è l'incarnazione della vita del giusto, la giustizia è la testimonianza di una verità che è carità. Carità e verità sono insieme la giustizia che si visibilizza nelle persone, per cui voglio veramente dire che l'evento di oggi, la presenza di Vatino, del Beato Vatino, ci dice come la persona è in grado di visibilizzare, di manifestare, di narrare, di raccontare quella che è la giustizia.